Non è la medaglia che volevo, ma pesa. Soddisfatto, ma non del tutto. Filippo Ganna, la prima medaglia olimpica di Parigi 2024 per l'Italia, sognava l'oro nella prova a cronometro. Gli sono mancati 14 secondi, quelli che gli ha dato di distacco il fuoriclasse belga Remco Evenepoel. Un ulteriore rammarico, unito alle condizioni meteo, sul bagnato non sono a mio agio e sapevo che, con la pioggia, non sarei riuscito. News 24, la tua nuova TV locale.